Prosegue a Polla la terza edizione della rassegna estiva Incontri in Biblioteca, organizzata dalla Proloquo e dal Comune in collaborazione con l'Associazione Volta Pagina e voluta fortemente dalla Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Corleto. Dopo la prima serata dedicata alla disabilità sensoriale in relazione all'evoluzione del diritto nel corso della storia, con la presentazione del libro Da incapaci a disabili, minorati sensoriali e cultura dei diritti di Ileana del Bagno, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Salerno, la rassegna culturale pollese è pronta ad accogliere il secondo appuntamento in cartellone. È previsto per la serata di domenica 25 giugno presso la Biblioteca del Santuario di Sant'Antonio a Polla. Alle 19 si terrà dunque la presentazione dell'assaggio monografico Viaggio nel Tempo col Tanagro di Vita Antonio Capozzi. Dialogheranno con l'autore la professoressa Alfonsina Medici e il giornalista Giuseppe D'Amico. La serata è organizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani di Polla e dell'Associazione Culturale Sant'Antoniello. Sono otto gli appuntamenti previsti per un'estate all'insegna del confronto e del dialogo attraverso parole scritte, narrate, raccontate, esperienze di donne, uomini e tematiche di respiro ampio e trasversale. Il terzo incontro si terrà il 1 luglio con Simona Frasca, l'autrice e giornalista che con il suo Mixed by Erri, la storia dei fratelli Frattasio, ha riscoperto la storia dei fratelli che rivoluzionarono il mondo pirata della musica e da cui è stato tratto l'omonimo film. Per il 14 luglio è prevista la presentazione del libro Ruote 96 bis del giornalista del Sole 24 Ore e poeta Giovanni Bracco. Seguiranno poi altri incontri nei mesi di agosto e settembre. Grazie a tutti.